il punto festone è tutto fatto è tutto finito il davanti del lavoro si presenta così e il nostro retro si presenta così mi raccomando sempre pulito io per così per abitudine comunque pulisco anche sempre tutto il retro bene anche se poi naturalmente ci andrà un imbottituro comunque sarà sarà rivestito a questo punto noi dobbiamo andare a creare tutti i particolari qui ci sarà una scritta il mio nome perché questo sarà un oggetto che personalizza dovremo fare i puntini degli occhi delle galline dovremo fare magari la grata della finestra e fiorellini e i semini delle che brucano le galline che brucano che beccano le galline allora so che è banale ma siccome mi è stata fatta una domanda ieri non credo sia proprio così banale generalmente io uso il il filato dmc questo lo uso da anni e anni e anni anche per il punto croce ho anche tanti avanzi questi sono i miei avanzi personali naturalmente a casa ho tutte le mie scatole piene di filato messi in ordine per cartella colore qui invece mi porto solo gli avanzi allora vado a prendere il capo del mulinet il mulinet è formato da una matassina che è formata da sei fili vado a prendere uno due praticamente vado a prendere due volte la la distanza della 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 matassina taglio in questo modo questo che mi che mi avanza lo uso per fissare il cartoncino questo se ho fretta se invece voglio prepararmi questo questo filo stacco la cartellina faccio un'asolina con il filo in modo che non mi si stacchi più e lo faccio su naturalmente con le farfalline tutta un'altra cosa è molto più comodo una volta che io sono in questa posizione vado a prendere il numero di fili che mi serve potrebbe essere tre potrebbe essere quattro potrebbe essere due può anche essere uno non è non è indifferente questo questo numero dipende dalla lavorazione che volete fare ago di tale infilo allora in fondo faccio un bel nodo ripeto siccome comunque è un siccome comunque è un verrà nascosto il mio retro a me non interessa di dove viene fatto questo nodo allora a questo punto io vado a prendere un pennarellino e faccio come comincio a farmi delle prove adesso giriamo guardate il pavimento sicuramente sporco da tutte le cose che abbiamo buttato in terra allora io vado a farmi un puntino del posto in cui vorrò fare l'occhio questo mi piace naturalmente beh un po impossibile con il ok questi sono i puntini che io devo fare devo fare anche le zampe della gallina allora io vado a segnarmi quelle che potrebbero essere le zampe della gallina allora l'occhio lo facciamo con il un punto che si chiama appunto nodini qui useremo il punto erba allora io ho infilato il mio ago filo doppio e nodo in fondo vado in fondo sul retro ed esco proprio nel punto in cui voglio vedete bene nel punto in cui voglio fare il punto nodini esco il nodo mi ha bloccato il il filo a questo punto prendo la mano sinistra passo sopra al filo e faccio 1 2 3 4 5 giri rivado molto molto vicino rispetto al punto in cui sono uscita tiro un po e a questo punto piano 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 tiro il mio filo in questo modo io ho fatto il mio punto che mi simboleggia l'occhio della della gallina giro a questo punto di nuovo faccio dei nodi vicino al lavoro e questo non si disfa più vi faccio vedere la stessa cosa sull'altro sull'altra gallina allora nodo in fondo se sbagliate ne fate un altro ok nodo in fondo vado sul retro entro sull'occhio della gallina che mi a questo punto prendo con la sinistra vado sopra con l'ago sopra il filo e giro 1 2 3 4 5 volte a questo punto riesco più o meno vicino a dove a dove era uscita dal dal retro tiro un po e piano 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 faccio passare il mio filo sotto stessa cosa chiudo faccio dei nodi e taglio vicino adesso dobbiamo fare allenamento perché io voglio fare con questo stesso punto un po di semini per che simboleggiano i semini della delle galline li facciamo con questo bell'arancio che secondo me con i giapponesi ci sta proprio bene stessa cosa grazie a tutti Grazie. Grazie a tutti. Prendo il filo mouliné, lo metto doppio, faccio il nodino in fondo e comincio da dietro, passo sul davanti, prendo il filo 1, 2, 3, 4, 5 e così via faccio tantissimi pallini. Il filo non vado a fermarlo tutte le volte dietro, come abbiamo fatto per i semini, una leggera filzina così sul retro non dà assolutamente fastidio. Anche perché stiamo lavorando su tessuti messi in doppio più volte. Mi sono distratta perché mentre vi parlavo io non ho contato 1, 2, 3, 4, 5. Assolutamente non vale la pena disfare perché comunque 1 o 2 giri di filo intorno al lago sono pressoché impercettibili. Quindi state tranquilli anche se vi accorgete, certo non 1, 2 o 10, ma se sono 4, se sono 5, se sono 6, sono pressoché uguali. Il risultato finale non cambierà. Così via andiamo a fare le solite meline. Mentre lavoro sto pensando che io ho utilizzato questo salmone, questo colore che un po' si adattava a tutto quanto è il contesto di questo lavoro che stiamo facendo. Così stavo pensando che magari volendo continuare a fare le meline anche in questa chioma in fondo, quindi quella più sotto, che sembra più scura, potrebbe essere carino cambiare e mettere un colore delle meline un po' più scure. Non è detto che si veda chiaramente, però magari impercettibile ma un po' di stacco lo fa. Dopo proviamo. Dopo proviamo. Allora facciamo la stessa cosa per le meline con il colore un po' più scuro. Prendo due fili di meline. Infilo e faccio il nodo in fondo. Si vede? Il nodo lo nascondo dietro e comincio. 1, 2, 3, 4, 5. Buco, tiro e nascondo dietro. Per fermare, giro il lavoro. E faccio tre o quattro nodini vicini. Taglio. Adesso ho visto che mi servono ancora due o tre meline qui. Nodo in fondo. Quando vi accorgete che avete fatto questi giri troppo stretti e l'ago non scorre, basta dare un po' di agio a questo filo, non tirare così tanto e subito, vedete, e subito tutta la lavorazione si smolla un po'. Quando il filo diventa corto, il lavoro diventa un po' più difficile. Qui manca una melina, la facciamo. Come vedete, le meline non serve, le meline come i semi, non serve disegnarli. Si fanno un po' a caso, cercando di distribuirli il meglio possibile. Stessa cosa, nodo dietro. Vi ripeto, sto usando un tessuto molto molto scuro rispetto al filo che sto usando per il ricamo. Sto usando comunque il ricamo su due pezzi di tessuto sovrapposti, quindi di sicuro il retro non si vedrà. Con i punti decorativi ho pensato, per esempio, di fare le grate a questa finestrella del granaio. Semplicemente, nodo in fondo, esco da un punto del lato inferiore e vado sul davanti a spingere su un punto del lato superiore. Così via, cercando di fare, vedete, comunque questi sono dei punti lunghi, dei punti larghi, naturalmente perché sono abbastanza corti. Diciamo che più di questa distanza servirà poi un altro ricamo. Un altro ricamo che, per esempio, utilizzerò adesso per fare le gambette della gallina. Si chiama appunto erba. Allora, sempre nodo in fondo, ricordatevi sempre che le maestre ricamatrici assolutamente non vogliono dei nodi nei loro ricami. Ma noi non facciamo quella professione. Noi stiamo facendo un pezzettino, un progetto di cucito creativo che deve essere molto semplice e soprattutto deve agevolare nella produzione anche le persone che si affacciano per la prima volta a questo hobby. Quindi con dei passaggi molto molto più facili rispetto a, per esempio, ricamare delle tende o di inserire un pezzo di puncetto. Assolutamente senza presunzione di scavalcare le persone che veramente fanno questo di lavoro con delle cose molto molto più precise. Allora, nodino in fondo, io mi sono disegnata con un pennarello che poi andrà via con una spruzzata d'acqua, le gambette di questa gallina. Allora faccio in questo modo, vado in un lato, quindi in un'estremità del pezzo che io devo ricamare, sempre nodino in fondo e tiro. A questo punto vado sempre sulla mia linea del ricamo un po' lontano e torno indietro. Di nuovo il filo me lo abbasso, di nuovo vado un po' lontano e torno indietro. E in questo modo riesco a fare, certo, dei punti molto lunghi e quindi un lavoro molto veloce. Ma posso anche fare dei punti, come quelli che sto facendo io adesso per farvi vedere, molto molto piccoli. Il lavoro viene un po' più lungo da effettuarsi, però in questo modo riesco a fare delle curve molto molto strette. Ho voluto fare le gambe della gallina nera, nere, proprio per dare la contrapposizione di queste che ho ricamato e, insomma, per farle vedere un po' di più. Le avessimo fatte gialle o arancio non si sarebbe visto troppo. Ecco, anche qui metto sul fondo, ho una distanza abbastanza lunga sul retro. Questo potete deciderlo voi, o fermare il filo oppure proseguire. Ricordatevi che non va fatto questo lavoro, vedete, perché non si può arricciare. Deve essere bello piatto. E continuo a fare il mio punto erba. Dopo, con una spruzzata d'acqua, questo segno azzurro delle gambette che ho disegnato andrà via. Procediamo facendo il ricamo a punto erba sulla targhetta della personalizzazione. Qui serve una piccola precisazione. Allora, io sono andata a disegnare il mio nome, quindi a scrivere il mio nome, su questa targhettina. Questa targhettina che era già fissata, il mio nome l'ho scritto così, a manuale libera, non avevo uno schema. Allora, per fare le cose velocemente, ho iniziato qui, finivo qui, il nome non era centrato. Lo faccio spessissimo questo lavoro, deve essere un piacere creare delle cose, deve essere un modo per allenare la nostra mente a risolvere delle situazioni che sono facilissime da risolvere. Per vedere di centrare un po' questo che non era centrato, ho aggiunto un cuoricino. In questo modo, la stessa distanza che c'è da qui alla fine è uguale a questa che c'è da qui alla fine. Tutto fatto a vista, senza prendere nessuna misurazione, ma cercando di insomma riempire un po' tutti gli spazi. Senza cuoricino questo sarebbe stato tutto uno spazio vuoto. Sono delle piccole stupidate, ma io noto che ci sono delle signore che non sempre arrivano a queste soluzioni. È proprio un fattore di allenare un po' la mente e riuscire tranquillamente a trovare soluzioni. Allora, facciamo il cuore, sempre a punto erba. Vado ad inserirmi nella punta del cuore, diciamo, e comincio. Allora, qui serve proprio fare dei punti piccolissimi, perché io devo fare la curva. Quindi vado lontano e torno da dove sono uscita e così via. Piano, piano, piano. Mi faccio tutto il contorno del mio cuoricino. La stessa cosa la farò poi sulle lettere del mio nome. Muovete il lavoro in modo che vi segua. Voi dovete sempre lavorare verso destra e quindi, a mano a mano che voi avete bisogno di cambiare direzione, cambiate anche la direzione del vostro lavoro. Per il nome vado a prendere una gugliata un po' più lunga. Bisogna trovare la giusta via di mezzo delle gugliate, perché troppo lunga non va bene, troppo corta vi diventa il lavoro troppo difficile. Sempre due capi di filo, se usate il molinè. Nodo in fondo. E cominciamo. Per il nome vado a prendere un po' più lunga. Per il nome vado a prendere un po' più lunga. Per il nome vado a prendere un po' più lunga. Per il nome vado a prendere un po' più lunga. Per il nome vado a prendere un po' più lunga. Per il nome vado a prendere un po' più lunga. Signore, vi ripeto, questa non vuole essere una lezione di ricamo classico, ma è semplicemente un aiuto che vi voglio dare per cercare di decorare ancora un po' la nostra piastrellina con le galline. Volevo insegnarvi a fare queste margheritine. Allora vado a puntare dal retro, vado a puntare l'ago ad una distanza praticamente dalla base, diciamo dal termine del prato, ad una distanza che decido per il gambo. A questo punto tengo con il pollice e rivado a puntare nello stesso punto in cui sono uscita. Tengo con il pollice una misura di filo che mi necessita per crearmi un petalo in questo modo. Esco in questo punto e blocco il petalo e così via. Io posso farmi queste margheritine che possono avere due soli petali come quelle che sto facendo oppure fare tutto il giro e quindi fare tutta la margherita. Di nuovo vado sulla base da dove sono partita con tutti i petali e faccio una stanghettina verticale che va ad essere il mio gambetto. Grazie. 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 al nostro pannellino metto una cucitura una cucitura centrale in modo da vedere e comincio a fare la mia il mio punto di trapunto parto da lontano perché tanto poi questo pannellino andrà sistemato e comincio andare in verticale c'è qualcosa che non funziona avevo staccato il pedale e comincio andare a fare queste queste linee verticali quindi semplicemente vado a fare questo lavoro il punto di fermatura se la vostra macchina non a questo punto potete fare un avanti indietro se avete pazienza potete anche fermare tutti i fili poi una volta che avete finito il vostro trapunto io praticamente seguo la linea del mio tessuto e vado avanti a fare il trapunto proprio prendendo dei punti a caso e quindi delle distanze a caso che ve vai cetto mangiare che una cucina suica è ancora ecco po' A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.